Anche quest'anno Universal Robots è presente in MEXPE per portare soluzioni di robotica collaborativa alle imprese del territorio e non solo. Abbiamo tante novità da far vedere, abbiamo nuovi Wear Plus, nuove soluzioni, nuove applicazioni e soprattutto tante idee per una robotica veramente collaborativa alla portata anche nelle piccole e medie imprese. Grazie per la visione! Abbiamo anche esempi di Industrie 4.0 proprio per portare questa innovazione e queste tecnologie alle fabbriche e alle imprese, come in questa demo del CoffeeBot, grazie alla quale è possibile ordinare il proprio caffè collaborativo e tramite una dashboard interattiva monitorare in tempo reale la produttività del robot, i suoi parametri e le sue funzioni e soprattutto quelli dell'applicazione, in questo caso ovviamente ludica, che sta attirando tanta attenzione da parte dei visitatori. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!